Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Dopo l'uscita di Godzilla e Kong, il nuovo impero, ci siamo interrogati sul futuro del MonsterVerse attendendo le conferme dal botteghino, nel senso che tutti speravamo che il film andasse bene in modo da poter vedere nuovi film del MonsterVerse. Il film, lo confermo ancora una volta, è andato bene, ha guadagnato milioni su milioni, quindi è molto 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 probabile che vedremo nuovi film a tema Godzilla, a tema Kong. Ma il MonsterVerse ormai non è più solo film del grande schermo, è anche serie TV. E proprio sulle serie TV abbiamo interessanti e intriganti novità. A che cosa mi riferisco? Beh, mi riferisco a Monarch Legacy of the Monsters stagione 2 e a vari spin-off, sempre in formato serie TV, che sono stati appunto annunciati. Prima di lanciarci un po' di speculazioni, vi invito a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. Allora, il finale di Monarch Legacy of the Monsters ci aveva lasciato ovviamente con la speranza e la concreta possibilità di vedere una seconda stagione, che però non era stata confermata al momento dell'uscita della prima stagione, a differenza di quanto è successo con la serie di Fallout, dove la seconda stagione è stata subito confermata. Vi rimando anche alla recensione che ho fatto qui, proprio della serie su Fallout, se siete interessati. Ad ogni modo, tornando su Monarch Legacy of the Monsters, appunto, non era arrivata la conferma, ma il finale appunto lasciava capire che la storia sarebbe andata avanti e infatti adesso la conferma è arrivata. Che cosa ci possiamo aspettare in Monarch Legacy of the Monsters stagione 2? Io credo che questa serie andrà a colmare uno dei punti diciamo più deboli o comunque delle questioni lasciate un po' irrisolte da Godzilla vs Kong, ossia appunto la comparsa e l'ascesa della Apex. Per rinfrescarvi la memoria, la Apex è questa super compagnia scientifica che in Godzilla vs Kong si occupa sia di esplorare la terracava, con tutta una serie di mezzi specificatamente creati appunto per entrare nella casa dei titani, e dall'altra anche colei che lavora in segreto al progetto Mechagodzilla e che va proprio a creare il titano meccanico, salvo poi perderne il controllo, come viene mostrato sempre in Godzilla vs Kong. In questo film l'Apex spuntava un pochino dal nulla, perché in Godzilla King of the Monsters non se ne parlava e insomma questa super compagnia sembrava appunto puff comparire. Si poteva immaginare che fosse comunque nata a seguito degli eventi di Godzilla King of the Monsters con tutto il caos seminato da Ghidorah, da Godzilla eccetera e aveva già senso, però è bello avere un approfondimento appunto che spiega le dinamiche di una compagnia così potente e anche tracotante, nel senso che non si fa problemi addirittura a creare appunto un titano meccanico. In Monarch Legacy of the Monsters l'Apex è stata direttamente coinvolta, il finale appunto ci ha portato al cospetto delle ricerche che l'Apex ha condotto su Skull Island, quindi credo che questo filone sarà assolutamente molto presente e molto importante in Monarch Legacy of the Monsters stagione 2. Magari andranno a spiegarci alcuni degli eventi che sono accaduti tra Godzilla 2014 e Godzilla King of the Monsters, con l'obiettivo poi magari di arrivare appunto fino a Godzilla vs Kong, magari andando a spiegarci come l'Apex ha recuperato la testa di Ghidorah che era in mano al terrorista Jonah e via discorrendo. Ci sono delle questioni in sospese molto intriganti che potrebbero poi dare adito anche a della lore interessante, vista e considerate le ricerche che l'Apex potrebbe avere condotto nei suoi super segreti laboratori. Ma oltre alla stagione 2 di Monarch Legacy of the Monsters, sono stati anche annunciati dei progetti spin-off. Cos'è uno spin-off? È una serie che prende spunto da un filone principale e ne va ad approfondire o a trattare un aspetto specifico. Che spin-off possiamo aspettarci a tema Monsterverse? Ovviamente ancora non hanno annunciato niente, quindi dobbiamo solo lavorare di fantasia. Io mi aspetto uno spin-off ancora una volta sul passato, perché la parte nel passato di Monarch Legacy of the Monsters è piaciuta molto. Però non credo che nella stagione 2 di Monarch avremo ancora il salto temporale che abbiamo visto nella prima stagione, perché i protagonisti di quelle vicende sono ormai un po' diciamo rimaneggiati. Quindi credo che potrebbero esserci degli spin-off su alcuni dei personaggi del passato di Monarch Legacy of the Monsters, il personaggio dei Russell, interpretato da Kurt e da suo figlio. Abbiamo Randa, che potrebbe essere ancora una volta approfondito. Comunque credo che torneremo nel passato. È possibile anche uno spin-off a tema Skull Island, nello specifico, a tema Kong, magari riportandoci sull'isola del Teschio per delle ricerche, per qualcosa insomma di scientifico. Anche qua questa è un'ipotesi, non è detto che succeda, però Skull Island è sempre un po' quella terra dei mostri che si può spendere per delle storie interessanti e ricche di adrenalina e suspense. Quindi reputo uno spin-off su Skull Island abbastanza quotato. Il mio sogno nel cassetto, l'ho già detto anche in altri video, è quello di una serie diciamo un po' antologica, dedicata sempre al passato, ma al passato anche remoto del Monsterverse, sugli antichi umani della Terra Cava, sul rapporto tra gli umani e i titani nel passato, facendo una serie magari, per farvi un esempio simile a quello che ha fatto Star Wars con Tales of the Jedi o Tales of the Empire. Prendo delle storie piccole, le sviscero in un paio di puntate, anche una, in una serie che non ha un'unica trama, ma che è fatta appunto di più trame, di più episodi autoconclusivi o comunque magari interconnessi a coppie. Questa potrebbe essere un'ottima scelta per esplorare al massimo la lore del Monsterverse, però è forse la più complicata da fare, la più costosa anche da un certo punto di vista, quindi forse è anche la più improbabile, ripeto. È un po' un peccato perché a me piacerebbe molto. Sono molto più plausibili degli spin-off che siano comunque unitari, nel senso una storia, un paio di storie interconnesse, un po' come è stata Monarch Legacy of the Monsters. In tutto questo abbiamo però una grande certezza. Il fatto che si faccia una stagione 2 di Monarch, il fatto che si vogliono fare addirittura delle serie spin-off, ci dimostra ancora una volta come il Monsterverse non solo è vivo, non solo è in piedi, ma è anche in corsa, per citare l'odulo in Jurassic Park, il mondo perduto. Nel senso che il Monsterverse è solido, è forte, Apple TV e la Legendary ci investono ancora, portano serie, usciranno appunto nuovi film. È un franchise che non è mai stato così popolare, così amato. I mostri al cinema o in formato serie TV piacciono ancora. Anche al di fuori del Monsterverse il successo di Godzilla Minus One ne è la prova. Anche lì si parla addirittura di un sequel, un Godzilla Minus One parte 2, non lo so. Quindi per tutti noi appassionati di mostri, appassionati di Godzilla, appassionati di Kong, di tutti i personaggi, è un momento d'oro. Perché possiamo veramente beneficiare del fatto che le Major investono i grandi soldi su questi film. Che si traducono in effetti speciali migliori, che si traducono in prodotti più frequenti, che si traducono in un marketing onnipresente. Perché quando un francese è forte economicamente e piace, può anche conquistare nuovo pubblico, può anche espandere la cerchia degli appassionati. Sì, ci siamo noi che seguiamo il tutto dall'inizio, che ci guardiamo ogni cosa, ma noi siamo già conquistati da Godzilla, da Kong e dai mostri. Il Monsterverse sta allargando la sua cerchia di appassionati. Lo si vede, ci sono sempre più persone che si approcciano, anche i ragazzi giovani che scoprono Godzilla, che scoprono i titani, i kaiju, proprio grazie al Monsterverse e che si appassionano a essi. E saranno i mostrofili del futuro, i nostri epigoni, i nostri eredi. Quindi molto molto bene, sono molto molto contento, anche perché ovviamente mi piacerà esaminare, creare contenuti dedicati a queste serie e condividerli poi qui con voi su YouTube, in modo che la community resti appassionata, anche per chi magari non potrà vedere tutto. Quindi sono soddisfatto, non si hanno ancora dati d'uscita, appunto non sappiamo ancora niente, ma questa conferma che le serie tv andranno avanti è davvero oro colato. Insomma, in poche parole, l'era dei kaiju è appena iniziata e noi ce la possiamo gustare tutti insieme. Bene signori, fatemi sapere un po' le vostre aspettative o i desideri per questa Monarch Legacy of the Monsters stagione 2 e anche per i possibili spin-off. So che nei commenti qualcuno dirà voglio uno spin-off su Rodan, voglio uno spin-off su Motra. Potrebbe essere tutto, potrebbe non essere niente di tutto ciò, ma intanto possiamo solo che farci un'idea di quello che vorremmo vedere. Puoi stare appunto alla Legendary, all'Apple TV, decidere che cosa portarci. Ma sicuramente avremo altri prodotti con i mostri, quindi ripeto, c'è da stare allegri. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale e perché no ad attivare la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa PayPal e TP, link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Grazie! 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 Grazie!